Mi sono svegliato, mi sono arrivati messaggi, poi ho visto su Sky i giornali che abbiamo vinto a tavolino 3-0 per la questione di Ragusa. Siamo molto contenti come penso tutti quanti, anche se abbiamo perso il campo contro Sassuolo, anche se era una parita che comunque potevamo portare a casa un punto se non tre. Sono 4-5 gare le prime, poi molto difficili, nessuno se la sarebbe aspettato neanche contro Napoli, quindi va bene così decisamente. Sono terzino, quindi è la prima cosa che devo difendere, quindi comunque in questi anni sto lavorando col mister, ormai sono due anni, due anni e mezzo, che sto lavorando col mister molto bene, insieme anche a Luciano Zauri e al mister Donatelli. La Serie A è un altro campionato rispetto a quella di Serie B, voglio dimostrare che anche in fase difensiva sto migliorando, e anche perché è quella che mi manca, quindi ce la sto mettendo tutta per dimostrare che anche in questa categoria posso giocare le mie chance. A livello fisico, tattico, tecnico cambia totalmente la Serie B, noi stiamo cercando di farne parte, cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile, manca un po' di concretezza, magari un po' lì davanti, come Sassuolo, se dopo tre minuti facciamo gol con Gianluca magari poteva cambiare la partita, abbiamo avuto tante occasioni da gol, il Sassuolo nella prima mezz'ora abbiamo schiacciato nella nuova metà campo, abbiamo fatto un grande calcio, abbiamo giocato un grande calcio e abbiamo visto che comunque in Serie A il primo tiro che subisce magari prende i gol, quindi dobbiamo cercare di migliorare a livello di concretezza.